andiamo in Igor anche Igor andiamo in Igor andiamo in Igor andiamo in Igor non fai una foto loro due se non c'erano male ecco qua il contello ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua andiamo a tavolo ecco qua ecco qua chi è che brinda con il conto? la terezza è Igor guardatevi un fluttino a Wolfi un fluttino a Wolfi un colpo quattro 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 Wario ै Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti